Pace e bene cari fratelli e sorelle, bentrovati. Se la prima domenica di avvento ci ha ricordato l'importanza di vegliare, la seconda domenica ci ricorda l'importanza di preparare il cuore alla venuta del Signore. E la parola ci offre un possibile itinerario di conversione per non lasciarci sfuggire la grazia di questo tempo, non lasciarci sfuggire il Signore che viene. La chiave di fondo, bellissima, è l'annuncio della liberazione, della liberazione dal peccato. La prima lettura, tratta dal profeta Esaia, annuncia la fine dell'esilio. Dice il Signore, consolate, consolate il mio popolo, parlate al cuore di Gerusalemme, gridatele che la sua tribolazione è compiuta, la sua colpa è scontata. Nel Vangelo Giovanni battezzava nel deserto e proclamava un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Ecco l'annuncio, miei cari, l'annuncio di gioia. Dio viene a liberarci, Dio viene a perdonarci, il Signore viene per amarci sino in fondo e darci una vita nuova. Ora, quali passi muovere per essere pronti ad accogliere il Signore che viene? Primo, si parte dal deserto. Giovanni Battista viene presentato come colui che battezzava nel deserto, voce di uno che grida nel deserto. Potremmo dire che per lasciarci incontrare dal Signore e crescere nella vita nuova, è importante riscoprire la dimensione del deserto, fare un po' di deserto e attraversare il deserto. Cosa vuol dire? Fare un po' di deserto significa ritagliarsi un po' di spazio per stare con Dio, a contatto con se stessi e la dimensione spirituale e esistenziale dell'ascolto. Riscoprire quell'eremos, quella celletta interiore e lasciarci parlare al cuore. Recolorà l'importanza dello spazio della preghiera, della meditazione della parola, dell'ascolto di chi l'annuncia. Al contempo attraversare il deserto vuol dire fare i conti con il proprio vuoto. Noi tante volte tendiamo a scappare dai nostri vuoti, fatichiamo a stare soli con noi stessi e spesso non lo facciamo solo per noia ma per paura, paura di guardarci dentro e scoprire l'origine dei nostri pensieri malsani, di toccare con mano le nostre contraddizioni, le nostre dinamiche irrisolte. Quante volte tendiamo a fuggire dalla realtà che ci fa male cercando di riempire di surrogati la nostra vita. Basti pensare ad esempio alla tv, ai social. Con la tecnologia si sono abbreviate le distanze ma sono diminuite le relazioni reali, autentiche. Quante volte il loro maldestro utilizzo aliena dalla realtà. Giovanni invece ci invita a ripartire dal deserto per farne il luogo di incontro con lui che ci ama, che ci perdona, che ci pacifica, che parla al nostro cuore, smetterla di scappare dai nostri vuoti e lasciarci incontrare proprio lì dal Signore. Solo Dio sa entrare nella stanza segreta del nostro cuore e parlarci e così far rifiorire la nostra anima. Bene, si parte dal deserto e poi ci si dispone al cambiamento. Come? Mediante il pentimento e la confessione. Cosa significa? Riconoscere e ammettere ciò che non va, dispiacersene e soprattutto proporsi il cambiamento. Giovanni Battista viene infatti presentato come colui che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. È come se ci invitasse a non aver paura di riconoscere e ammettere i propri fuori mira, le distorsioni vissute nell'amore, tutte quelle storpiature apportate alla volontà di Dio. Ogni qualvolta abbiamo preferito il nostro egoismo all'amore, il nostro io a Dio. Verrete, miei cari, a volte noi passiamo la vita cercando di negare anche a noi stessi ciò che non va. A volte lo facciamo perché la coscienza non è illuminata, altre volte perché non siamo stati abituati a guardarci nel cuore, altre volte per autodifesa, per difendere quell'immagine che ci siamo costruiti nel tempo. Vi sono persone che fanno proprio fatica ad ammettere le proprie colpe, a chiedere perdono. A volte questo è anche frutto di un'educazione sbagliata, dove riconoscere e ammettere di aver sbagliato sembra quasi uno svilire la propria autorevolezza agli occhi degli altri, l'esatto opposto di quello che è in realtà. Ecco, la parola ci invita a non aver paura, di aprire il cuore alla tenerezza di Dio, di ammettere ciò che non è andato, di consegnarglielo perché la nostra vita possa rifiorire, perché la pace possa germogliare nei nostri cuori. Gesù in una rivelazione privata a Santa Faustina Kowalska disse, l'umanità non troverà pace finché non si rivolgerà alla mia misericordia. Altre volte purtroppo passiamo la vita schiacciati dai sensi di colpa, reali o immaginari, e allora cerchiamo in qualche modo una via di uscita. Chi autoimponendosi, anche senza rendersene conto, fardelli e punizioni, chi cercando di autoconvincersi o di autoassolversi in qualche modo? Fatto sta ed è che inquieto è il nostro cuore finché non riposa in te, disse Sant'Agostino. Ed ecco che la gente andava da Giovanni e confessava le proprie colpe. Sembra quasi un po', miei cari, un'anticipazione del sacramento, del battesimo e soprattutto il sacramento della riconciliazione. Dire il proprio peccato, ad esempio, al sacerdote è infatti guarigione del cuore, significa prendersi le proprie responsabilità, prendere in mano quel male commesso e deporlo nel cuore di Dio. Qui avviene uno scambio misterioso, noi gli consegniamo la nostra povertà, lui in cambio ci dona se stesso, la sua misericordia. Dunque, miei cari, siamo partiti dal deserto, abbiamo fatto un viaggio nel nostro cuore che ci ha condotti alla confessione. Tutto questo con una gioiosa certezza, che viene colui che è più forte, ci ha detto Giovanni Battista, viene colui che ci battezza in Spirito Santo. Se Giovanni in un certo modo ci ha aiutati a metterci in sincerità davanti a Dio, se la parola ci ha esortati a non aver paura di scendere nel nostro cuore e ammettere ciò che non va, il più forte, il Signore, è Lui che muove il cuore a conversione, è Lui che ci purifica, è Lui che ci dà la grazia di convertirci, di cambiare vita, è Lui che prende il cuore di pietra e lo rende man mano un cuore di carne, è Lui che non solo ci dice cosa significhi amare ma soprattutto ci rende capaci di amare, viene il Signore che ci battezza nello Spirito Santo, che ci immerge nella vita di Dio. Cari fratelli e sorelle, per vivere secondo il cielo non basta la nostra buona volontà, per vivere in costante cammino di conversione e di crescita non basta il nostro impegno, ci vuole la sua grazia, lo Spirito Santo. Non temiamo dunque, cari fratelli e sorelle, di andare a attraversare il nostro deserto, di lasciarci parlare al cuore perché sia mosso a conversione, riconoscendo e confessando ciò che non va, per essere resi liberi di amare. Che il Buon Dio vi benedica. Pace e bene a tutti.